buongiorno a tutti scusate questo zoom in primo piano che può essere un po inquietante però volevo farvi vedere da vicino tutti i produttini che adesso vi mostro in modo che possiate cogliere fino in fondo il top di questo video allora da come potete leggere dal titolo oggi vi mostro i miei dieci pigmenti ombretti in polvere preferiti vi anticipo che come tipologia di prodotto la adoro è un po più difficile da utilizzare perché vi consiglio sempre di bagnare il pennello con il fix plus o con un prodotto acquoso perché sono più evidenti e sono più facili da utilizzare quindi non spolverano ovunque iniziamo subito da mac dove promuovo questi due pigmenti che sono pink opal e vanilla vanilla è questo qui con l'iridescenza oro mentre pink opal c'ha l'iridescenza rosa mi piacciono tantissimo come punto luce come illuminanti oppure su tutta la palpebra mobile sono molto versatili e li utilizzo tantissimo anche per le spose altri due pigmenti che sono di mac sono questi due allora questo qui è esattamente questo ed è ten tan si scrive tan che mi ha regalato sonia tanto tempo fa e lo utilizzo anche questo su tante spose e lo trovo molto elegante e raffinato un altro che utilizzo ed ho utilizzato anche nel trucco delle occasioni importanti è questo qui perché è heritage rouge è questo prugna con una bella percentuale appunto di rosso che sui mie occhi verdi azzurri li fa risaltare tantissimo veramente bello 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 un altro pigmento diciamo con un prezzo medio alto è questo qui di la masca che veramente mi è piaciuto tanto si chiama berber ed è un rosso è un pigmento rosso ma molto luminoso non è un rosso opaco vedete che comunque shimmer l'unica cosa negativa di questi pigmenti è l'apertura vedete com'è che si sgancia poi se cercate un pigmento che sia oro colato ed è molto difficile trovarlo vi straconsiglio questo qui della sugar peel vedete com'è sembra proprio oro colato ho paura di farli cadere eccolo è un oro non eccessivamente caldo però non è nemmeno quell'oro freddo 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 io sono un po' impicciosa con gli ombretti oro perché non tutti mi piacciono ne ho provati tantissimi sia pigmenti che ombretti e questo qui è il mio preferito e adesso parliamo di altri quattro ombretti pigmenti insomma questi qui di neve cosmetics li ho selezionati perché ne ho tantissimi questi sono quelli che preferisco abbiamo qui il camaleonte che è questo rosso con riflessi verdi ed è molto simile a un pigmento di io li ho entrambi ed ho anche quello di la masca uguale è molto particolare perché ha questi riflessi è un rosso con i riflessi vedete com'è verdi è molto particolare sia sugli occhi azzurri che sugli occhi castani sta bene perché appunto questa iridescenza verde sta bene sugli occhi castani al contrario la base rossa sta benissimo agli occhi azzurro verdi un colore cioè in realtà ne erano due però alla fine ho scelto questo che è carnaby street che è un rosso c'ha riflessi lilla a me piaceva anche fondente mi piace tantissimo da bagnato vedete com'è è molto bello e spesso faccio dei soft smoky anche giornalieri con questo ombretto quando c'è un po più di tempo a disposizione per sfumare per truccarmi mi piace tantissimo due ombretti di un'edizione limitata che non so se fanno ancora però se la fanno vi straconsiglio di andarle acquistare perché mi piacciono tantissimo abbiamo peyote che è questo qui sempre panna con l'iridescenza verde sulla stessa scia di pink opal e vanilla di mac quindi questo qui lo utilizzo tantissimo per dare i punti luce vedete com'è ed è bello anche da bagnato ed infine uso tanto anche desert desert l'uso qua un po per dare questa sfumatura graduale per riscaldare un qualsiasi trucco che magari è un po più che va sul grigio qui non si vede un cavolo e al colore del deserto ed è molto bello e molto sfumabile leggero questo è uno degli ombretti più belli che fa neve cosmetics secondo me e niente abbiamo concluso sì abbiamo concluso spero che questo video vi sia stato d'aiuto e fatemi sapere quali sono i vostri ombretti pigmenti preferiti perché così magari do un'occhiata e faccio shopping anche io e magari ci sono anche in questi qui che vi ho mostrato scrivetemelo con un commentino qui sotto e ci vediamo domani con un altro video dell'avvento un vasone del calendario dell'avvento ciao buona serata